De Giorgio, salta Cascione, palla in mezzo, si propone Cataldi, Cataldi, palla che scorre Dezzi, Dezzi per Pettinari in aria, Pettinari parte il tiro, Pettinari a fil di palo sul fondo, ecco la grande occasione del match per il Crotone, la fallisce però Pettinari al quinto minuto di gioco sull'assist di Dezzi con la punta del piede che anticipa Crainch, Pettinari arriva al tiro prima della chiusura di volta, cerca il diagonale. La palla finisce fuori ma di poco, Crotone ha avuto nuque la sua grande occasione per sbloccare il risultato ma la fallisce Stefano Pettinari, si rimane 0-0.